Ciao amici, ciao amiche di 3 Gran Minuti, buonasera, bentrovati, lunedì 14 dicembre, giorno dopo Genoa Juventus, qui per commentare le dichiarazioni di Paolo Di Bala post partita ed anche, ovviamente essendo giorno di sorteggi Champions, il sorteggio è toccato alla Juventus. Insomma, prima di partire, come sempre, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al mio canale YouTube attivando la campanellina delle notifiche, se vorrete rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti miei in merito alla nostra vecchia signora e qualora vi fosse piaciuto, mi raccomando, mettete like al video. Bene, facciamo un passo indietro, andiamo al post Genoa Juventus, le dichiarazioni di Paolo Di Bala, le avrete sentite, se non le avete sentite, ve li riassumo a grandi linee, Di Bala, a precisa domanda, si è espresso in questi termini, che è innamorato della Juventus e che vuole rimanere alla Juventus, che le cifre dette in questi mesi e che ruotano intorno al suo rinnovo del contratto sono assolutamente false, sono state messe in giro voci per mettere contro la tifoseria a Paolo Di Bala, lui invece ama il popolo bianconero e quindi ci teneva a far sapere che quelle sono tutte notizie fasulle e che, cosa non di poco conto, il suo agente Antunes sarebbe stato a Torino senza che la dirigenza bianconera lo abbia contattato per trattare e valutare insieme un eventuale rinnovo del contratto. Ecco, nel complesso sono dichiarazioni abbastanza forti, dichiarazioni importanti, che per come conosciamo la dirigenza bianconera non credo, questo però è il mio pensiero, a voi l'espressione del vostro pensiero qui sotto nei commenti, non credo che la dirigenza abbia particolarmente apprezzato quella dichiarazione, quella in quell'intervista abbastanza forte, così a canali aperti, in pubblico, senza eventualmente averne parlato in separata sede. Questo è il mio pensiero, ovvero che queste dichiarazioni possano portare in una direzione, ovvero il termine della storia d'amore tra Paolo Di Bala e la Juventus. Paolo Di Bala che forse con queste dichiarazioni ha voluto lasciare la dirigenza, la società con il cerino in mano su un'eventuale separazione dal giocatore. Temo, non credo nel mercato di gennaio, ma probabilmente in fondo alla stagione, che la storia tra Paolo Di Bala e la Juventus possa questa volta essere giunta al capolinea. Vediamo, seguiremo nei prossimi mesi gli sviluppi, intanto passiamo ai sorteggi della Champions, oggi il sorteggio ha detto Porto, si giocherà la gara di andata, se non erro, il 17 febbraio a Porto, il ritorno, se non sbaglio, il 9 marzo a Torino. Le date, perdonatemi se le dovessi aver cannate, ma in sostanza questo è il concetto, l'andata a Porto e il ritorno a Torino. Sorteggio che sulla carta, che come mi sono già espresso, non vuole dire assolutamente nulla, riserva alla Juventus probabilmente il sorteggio più abbordabile. Però come sapete, l'anno passato il sorteggio aveva detto Lione, tutti a pensare che potesse essere un ottavo facile, sappiamo tutti com'è andata. Non esistono partite facili, non esistono squadre materasso, anche se sulla carta la Juventus apparentemente può sembrare più forte, occhio e attenzione, perché Lione insegna. Il match con l'Ajax deve insegnare qualcosa, ma anche le partite che abbiamo avuto più di recente contro Crotone e contro Benevento debbono essere delle lezioni che devono far capire che se in campo non vai con la giusta grinta, con la giusta determinazione, con la giusta tenacia, qualsiasi match può essere molto più difficile di un match sulla carta difficile, vedi Barcellona, che però viene approcciato con la giusta mentalità e quindi ti dà quegli stimoli e quelle sensazioni che una partita sulla carta più abbordabile possono eventualmente non darti. Siamo in Champions, non bisogna sottolottare l'avversario, la Juventus ha l'obbligo morale di scavalcare anche gli ottavi di finale, proiettarsi sempre più avanti, perché siamo la Juventus, non dobbiamo avere paura di nessuno, ma soprattutto dobbiamo ambire al traguardo più importante. Mi raccomando, ditemi la vostra, lasciate i commenti qui sotto, come sempre vi ringrazio per farlo e darmi la possibilità così di confrontarmi con voi, mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube, vi do appuntamento ai prossimi 3 minuti e buona serata. Ciao ragazzi! Iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al video, seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!